Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Ebbene oggi il Signore vuole fare un po' di prevenzione a noi che siamo credenti. Nel capitolo 10 di Primo Corinzi, nel verso 14, dice così Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Beh, ci sono tanti tipi di idolatria. Partecipare ingenuamente a feste dove si festeggiano idoli, tutto ciò che viene fatto, compreso cibi, sono contaminati. Sono infettati. C'è il virus della morte. Noi adesso ci siamo abituati con questo virus e sappiamo quanti morti, 20 milioni di morti ha fatto. È un virus invisibile. Gli stessi virologi fanno fatica a capire, ad inquadrare. Non solo i cinesi che l'hanno fatto, lo hanno ben classificato. Ed è un segreto che se lo tengono loro. È una scelta loro. Lo hanno codificato, lo conoscono. Perché gli serviva per fare politica. Fermiamoci. Sono cibi contaminati, infettati. C'è il virus che ci avvelena. Magari tu dici, ma io non lo vedo. Ma certo che non si vede. Ti ho detto che neppure chi l'ha fatto riesce, perché poi si sono susseguiti. C'è la peste. Quando noi facciamo subentrare l'idolatria nella nostra vita, siamo delle persone appestate. Siamo infettati dalla peste. E il Signore gli dispiace. Sono il contrario della comunione che abbiamo con il Signore. In questo capitolo dice proprio questo. Nel verso 16, a noi cristiani, ci porta un esempio per farci comprendere. Dice Il calice della benedizione che noi benediciamo, la messa che tu fai, quando prendiamo il calice della benedizione, prendiamo il pane, non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? Cioè, quando noi celebriamo la Santa Cena, noi cristiani, celebriamo la salvezza, la vita eterna, della perfetta unità spirituale, del pane e del sangue di Cristo. Quando noi facciamo questo, veniamo disinfettati, disintossicati, perché abbiamo comunione con Cristo e il suo potere spiritualmente ci purifica l'anima, lo spirito, il corpo. Molti vengono guariti, anche fisicamente. Quando non abbiamo discernimento, nell'Epistola ai Corinzi dice che molti muoiono a causa della negligenza che hanno verso questo sacramento tanto prezioso. Il sacramento vuol dire un ordine sacro, perché Gesù ha detto, fate questo, un ordine, in memoria di me, ogni volta che vi radunate, ricordate la mia morte per voi, il prezzo pagato per la vostra salvezza. Questo ci disinfetta, il suo sangue ci purifica, che simboleggia il nutrimento spirituale con Cristo. Questo è per noi credenti. Leggiamo nel verso 17. Bellissimo. Questi simboli ci parlano del corpo di Cristo dato per noi. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Cioè come quando viene rotto il pane, fa parte della stessa sostanza, Il corpo di Cristo diventa la sostanza per il nostro nutrimento spirituale, non la carne in sé, ma la sua vita data per noi, che col suo sangue ci lava, e avendo comunione con Lui spiritualmente ci nutriamo. Diventiamo con Lui uno stesso corpo nello spirito, come quando noi buttiamo una goccia nell'oceano, non la possiamo più prendere, fa parte dell'oceano. Così noi, così piccoli, se fossimo tutti salvati, otto miliardi di persone, veniamo immersi nella grandezza di Dio. Lui copre tutto l'universo, noi veniamo così immedesimati in questa grandezza di questo grande Dio. In Primo Corinzi 12,4 ci aiuta a comprendere questo diventiamo lo stesso spirito. Qui dice proprio così vi è un medesimo spirito. Cioè quando la presenza di Cristo nella nostra vita porta la salvezza, porta i doni spirituali, dentro di noi abbiamo la comunione con lo Spirito Santo che diventiamo lo stesso spirito con Cristo. Come se usiamo lo stesso internet, siamo collegati dalla stessa forza che porta messaggi, immagini, parole. Hai visto la pubblicità di internet come la fanno? Che internet avvolge tutta la casa, vai nella stanza da letto e c'è, vai nella cucina e c'è. Così lo Spirito di Dio è dappertutto e il nostro spirito si collega con lo Spirito Santo. che è presente dove siamo noi, dove sei tu. Diventiamo un unico spirito con Dio. Bellissimo questo. Una partecipazione spirituale vuol dire con Gesù. Nel verso 5 leggiamolo così, comprendiamo. siamo collegati con lo Spirito, vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Poi nel verso 6 dice che siamo uniti con Cristo, con Dio e con lo Spirito Santo. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte queste cose in tutti. Cioè, diventiamo la stessa sostanza spirituale. Lo Spirito è in noi, il nostro Spirito è in Cristo, siamo uno. uno. Mentre partecipiamo, dove sono gli idoli, è come andare con una prostituta. Sì, sì. La prostituzione è peccato perché noi ci medesimiamo, scendiamo in profondità con questa prostituta, diventiamo una sola carne. Quando noi abbiamo un rapporto con una prostituta, diventiamo una sola carne perché ci viene avvolto il nostro corpo e anche i nostri sentimenti. Per raggiungere il punto che vogliamo raggiungere, veniamo avvolti, coinvolti, diventiamo una stessa cosa. Leggiamo il verso 16 del capitolo 6. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché questo dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Cioè, siamo tanto legati anima, spirito e corpo che siamo come una sola cosa, una sola carne. Così, il nostro spirito, quando si unisce al Signore, nel verso 17, prende l'immagine naturale e ci fa comprendere l'immagine spirituale, comprendiamo la parte spirituale, come noi ci uniamo a Cristo ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. È un rapporto profondo quello spirituale con il Signore, è un rapporto divino. Il nostro spirito si incrocia con lo Spirito Santo. Quando noi partecipiamo agli idoli, tutto ciò che viene fatto siamo come quando ci uniamo ad una prostituta. Diventiamo nell'ambito di ciò che viene offerto, di ciò che si mangia consacrato agli idoli, l'idolo stesso, partecipando ingenuamente, sembra come se stessimo facendo qualcosa di poco, il virus del peccato prende forza nella nostra vita, perché questo vuol dire partecipare alla festa dei demoni e veniamo infiettati da questo virus che si chiama peccato. Così il nostro spirito quando si unisce al Signore anche qui dice fuggite vuol dire allontanatevi precipitosamente da questi pericoli. Il Signore ho detto prima fa prevenzione per noi per evitare che questo virus ci porti alla morte, ci porta alla separazione da Dio. Molti di noi preghiamo Signore guardaci dai virus, dal virus che c'è adesso, perché sappiamo che ci porta alla morte. Però pochi di noi preghiamo che ci guardi dal virus del peccato perché abbiamo paura per la morte naturale e non facciamo caso che possiamo morire spiritualmente veniamo separati da Dio. La morte naturale ci separa dai nostri cari, la morte spirituale ci separa da Dio, non abbiamo più comunione con Dio. e molti lo fanno ingenuamente, un inchino di qua, un inchino di là, l'olio di San Biagio, il pane di San D'Antonio, la festa di questo, la festa di quello, ecco qua, ci siamo dentro. Per il virus naturale ci preoccupiamo e poi moriamo, ci intubbano. Per quello spirituale, perciò il Signore oggi ti vuole parlare. Come non vediamo il Covid-19, il virus, così non vediamo fisicamente neppure il peccato. Però fatto sta che il virus ha portato 20 milioni alla morte e noi diciamo Signore liberaci, giusto? Stamattina dobbiamo dire Signore liberaci dal peccato, da questi riti che ci infettano. Perciò il verso 14 che abbiamo letto, rileggiamolo un'altra volta. No, verso 14 del capitolo 10 non l'ho detto, scusami. Perciò miei cari fuggite l'idolatria. Signore aiutaci, vuol dire fuggire, allontanarsi e noi ci stiamo dentro. Quando vai in una chiesa sei avvolto da tutte le parti. Qui prendi la la messa. Secondo te ti stai consacrando al Signore, ti nutri del Signore nello Spirito Santo. Poi ti rivolgi a destra e a sinistra e non fuggi l'idolatria, te li abbracci tutti, li baci, gli accendi la luce, gli accendi il lumino, gli accendi la candela, fai le tue oblazioni e vecchia come l'uomo l'idolatria. Prima avevano quella in Egitto, poi avevano quella di Canagan, poi ce l'hanno sempre e adesso ce l'abbiamo noi e il Signore dice fuggite l'idolatria e il Signore lo dice leggiamolo un'altra volta prendi nota così lo vai a leggere nella Bibbia che hai a casa se non hai la Bibbia ordinala prendi quella che vuoi questo verso dice la stessa cosa cura nella Bibbia della tua denominazione anche qui dice fuggite vuol dire allontanatevi allontanatevi precipitosamente da questi pericoli il Signore oggi fa prevenzione il peccato è un virus che ci separa da Dio come il virus ci separa dalla vita e dai nostri cari passiamo nel reparto dei defundi spirituali nel reparto dei morti tu dici ma frate che dici stamattina beh io dico noi Dio ci ha fatto grazie di avere questa televisione perché Lui l'ha voluta e Lui ci aiuta a portarla avanti e grazie siano rese a Dio e grazie siano rese a te che collabori con questa opera perché serve perciò noi mettiamo tutti i versi con sotto da farne ricerca e beh vai a verificare nella tua Bibbia nel verso 18 leggiamo io non voglio discutere ti voglio bene abbiamo cantato ti amo nell'amore del Signore perché ti voglio bene leggiamo il verso 18 fuggite la fornicazione vedi ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo ora abbiamo visto che la parola del Signore mette sullo stesso piano peccato l'idolatria la partecipazione quello che mangiamo che vuol dire festeggiare quel santo quell'idolo che non festeggi il santo festeggi l'idolo lo porti sulle spalle gli dai tutta questa riverenza il Signore nella sua parola mette sullo stesso piano l'idolatria alla fornicazione o all'adulterio perché questo si chiama fornicazione adulterio spirituale i profeti ne hanno sempre parlato e lo chiamano come tale Giacomo chi vive in questo stato dice o gente adultera chiama i credenti che vivono così adulteri non sta lodando non ci sta lodando sta dicendo di fuggire da questa da questo modo di adorazione ci ricorda che il nostro corpo è il suo tempio ci ricorda che il corpo è per il Signore nel verso 13 guarda come sminuzza la parola Dio davanti a noi le vivande sono per il ventre e il ventre sono per le vivande ma Dio distruggerà queste e quello il corpo però non è per la fornicazione ma per il Signore e il Signore è per il corpo che bello qui allora il nostro corpo è per il Signore e il Signore è per dimorare nel nostro corpo spiritualmente parlando abbiamo comunione spirituale con Lui ora se il nostro corpo è per il Signore e il Signore è per il nostro corpo noi siamo tanti uniti che siamo uno con Lui a Dio sia la gloria nel verso 19 fa una dichiarazione speciale chi siamo noi dice non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio quindi non appartenete a voi stessi cioè noi siamo del Signore col Signore dentro di noi noi commettiamo adulterio spirituale con l'idolo con ciò che viene offerto all'idolo e così via cioè come stare con tua moglie nel letto e avere al centro l'amante e tu amoreggi con l'amante mentre tua moglie sta all'altro lato o viceversa tu stai con tuo marito nel letto sposati avete fatto il patto noi abbiamo fatto il battesimo e mentre il tuo marito sta insieme con te tu al centro ci metti il tuo amante e moreggi con lui che ti pare ti sembra normale il patto l'hai fatto con tuo marito il patto l'hai fatto con tua moglie e questi elementi estranei sono lì proprio presenti leggiamo un'altra volta questo verso perché noi non ci accorgiamo siamo troppo ingenui ma Dio ci parla perché perché fa prevenzione non sapete che il vostro corpo è il tempio dello spirito santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio quindi non appartenete a voi stessi ma qui non si tratta di evangelici cattolici qui si tratta che Dio sta dicendo questo lo dice a me lo dice a te e perciò noi chi siamo se la parola di Dio parla noi dobbiamo ascoltare pertanto fornicazione adulterio naturale e spirituale non devono essere accettate abbiamo letto nel capitolo 10 verso 14 e leggiamo anche il 15 signore che parla nella sua parola io parlo come a persone intelligenti giudicate voi quello che dico cioè leggiamo il verso 14 e poi dai un giudizio da te perciò miei cari fuggite l'idolatria scappate non ci restate fuggite rapidamente verso 15 dice io parlo come a persone intelligenti giudicate voi quello che dico bene adesso lascia noi dal decidere giudica tu stesso quando noi facciamo così facciamo bene o facciamo male io non ti voglio dire niente perché tu sei una persona intelligente quando tu fai quello che la parola del signore vieta stai facendo bene o stai facendo male per me stai facendo male sei tu stesso che non prendi le giuste precauzioni per il virus del peccato il virus naturale stiamo attenti la mascherina la segnaletica quando dobbiamo stare lontano se per caso c'è quattro persone nella farmacia restiamo davanti la porta se per caso vediamo che nel negozio c'è un po' di gente in più dal fruttivendolo attenzione mentre nell'idolatria ci immergiamo dentro e quello è peccato altro che mascherina dobbiamo fuggire noi abbiamo perché noi abbiamo questo tesoro spirituale dentro di noi il verso 19 del capitolo 16 leggiamolo per un attimo perché il Signore non ci sta lodando ci sta ammaestrando non sai che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in te e che hai ricevuto dal Signore punto interrogativo quindi non appartieni a te stesso non appartieni a te stessa prendi nota di questi versi vai a leggerli il tempo dell'ignoranza è terminato perché possiamo personalmente andare a cercare riflettere e misurarci davanti a Dio o la parola di Dio dice così che faccio continuo o mi fermo se dice fuggite non dice fuggite dalla Bibbia dice fuggite da ciò che stiamo facendo perché questa è la parola di Dio noi siamo delle persone privilegiate quando conosciamo il Signore quando cominciamo a far parte della vita di Dio in secondo Corinzi capitolo 4 verso 7 dice così che noi siamo dei recipienti speciali noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra noi siamo di terra e veniamo dalla terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi oh alleluia pensa per un attimo fa riferimento all'impiego nobile che Dio si serve di noi sapendo che ciò che è in noi è di Dio perché noi siamo stati comprati noi siamo stati riscattati noi eravamo schiavi nel mercato del peccato il Signore Gesù Cristo è venuto lì e ha detto io sono venuto per liberarti seguimi che ti porto fuori io ho pagato il prezzo vieni fuori non ti preoccupare seguimi perché io ho pagato leggiamo un'altra volta questo verso ma che bello che bello che sei Signore noi abbiamo questo tesoro in base di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi sapendo che ciò che è in noi è di Dio perché noi siamo stati comprati nel capitolo nel capitolo 6 nella stessa lettera al verso 20 ci aiuta a comprendere cosa ha fatto il Signore per noi che sei grande Signore ti vogliamo benedire oggi poiché siete stati comprati a caro prezzo cosa dobbiamo fare allora ci dice che dobbiamo fare glorificate dunque Dio nel vostro corpo che cosa vuol dire vuol dire che noi dobbiamo attenerci a lodare Dio a glorificare Dio perché eravamo morti nei falli e nei peccati ci ha risuscitati ci ha chiamati a nuova vita adesso siamo dei contenitori dove deve venire fuori la lode verso Dio ma non solo glorificare Dio Signore ti lodo ti benedico ma anche piacere a Lui servire Lui una gratitudine per dire Signore anche se vivessi 5.000 anni e ti servirerei tutti i giorni è troppo poco per quello che tu hai fatto per me perché io posso mettere a disposizione 5.000 anni ma tu mi hai salvato per l'eternità sorella l'eternità l'eternità noi perdiamo il concetto quando pensiamo a eternità 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 Signore noi abbiamo la vita eterna la vita senza fine con il Signore noi ce la possiamo giocare per un poco di qualche cosa che non serve a niente siamo stati riscattati il pagamento per la nostra liberazione è costata molto cara a Dio nella Bibbia ci dice tutto il costo di ognuno di noi il valore in primo Pietro capitolo 1 verso 18 tu pensi che hai poco valore davanti a Dio no sapendo che non siamo stati comprati con cose corruttibili argento oro i migliori valori di questo mondo sono molto inferiori a quelli spirituali siete stati riscattati dal vostro vano mondo di vivere tramandatovi dai padri il prezzo pagato fu il sangue versato del suo stesso figlio del suo stesso figlio per te per me che Dio ha mandato e lui è venuto per fare questo in Giovanni capitolo 3 verso 17 dice poiché Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo essere umano infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicarci ma perché noi possiamo essere salvati per mezzo di lui noi siamo stati comprati pagati per il sangue versato del suo stesso figlio che Dio ha mandato e lui è venuto appositamente per dare la sua vita come prezzo di riscatto per te e per me il centro del messaggio del Vangelo Giovanni 3 16 che conosciamo a memoria dice poiché Dio ha tanto amato l'essere umano te e me che ha dato il suo unigenito figlio affinché io e te che crediamo in lui non periamo ma abbiamo vita eterna secondo il programma divino Dio questo progetto l'ha fatto quando l'uomo è caduto lui già aveva il progetto di restaurazione per me e per te in primo Pietro capitolo 1 verso 18 19 20 rileggiamoli tutti e tre perché questo è importante che noi lo sappiamo sapendo che non con cose corruttibili con argento con oro siamo stati riscattati dal nostro vano modo di vivere tramandatoci dai padri perché la tradizione non ci salva ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto ne macchia ben preordinato già disegnato prima della fondazione del mondo egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi egli è stato manifestato come un manifesto è stato esposto in mezzo alla folla che diceva crocifiggilo crocifiggilo e diceva no se è vero che sei il figlio di Dio scendi giù di croce hai detto che Dio ti salva e invece sei lì che stai morendo è manifesto no tutte le croci che vedi in giro sulle montagne le persone che portano la croce al collo le chiese con le croci sopra è manifesto ciò che ha fatto lui non possiamo dire oh signore io non lo sapevo la croce è stato il punto di condanna per Cristo ma lui non meritava la condanna egli è diventato peccato per noi ha accumulato dentro di sé tutto il peccato della mia vita terrestre anche quello originale lo ha inchiodato sulla croce per darmi la nuova vita dello spirito come posso commettere questa negligenza che sembra ingenua di fornicare far partecipare a Satana col suo spirito maligno nella nostra nella mia vita quando il Signore ci ha purificati e ci ha riempiti e ci riempie del suo santo spirito forse sei un carismatico una carismatica ma tu stai facendo qualcosa che non piace al Signore aiutaci il Signore ci ha raggiunto il suo messaggio ora siamo dei vasi che dobbiamo restare puliti sempre che si mette qualcosa di speciale in un vaso in un vaso viene pulito purificato lavato quando si fa il vino vedi i contadini che lavano le botti lavano tutto viene purificato noi siamo dei vasi speciali sorella tu sei un vaso speciale per il Signore fratello questo è un valore che ci ha dato il Signore e ciò che abbiamo in noi non è nostro è del Signore noi siamo soltanto coloro che dobbiamo vigilare ci ha fatto aggiungere il suo messaggio che dobbiamo restare puliti pensa quanta gente non ha sentito proprio il messaggio di Cristo ma a te un giorno ti ha fatto comprendere il valore versato per te che tu sei stata riacquistata sei stata acquistata molti parlano di carismatici e stanno in quella sporcizia ma io non posso dire diversamente non ti voglio offendere ma è la parola di Dio che dice che quell'ambiente dobbiamo fuggire ma fatti una chiesa pulita libera senza niente mettici la parola di Dio che quando la leggi diventa nutrimento non mettere proprio quello che dispiace al Signore è come se qualcuno ti avesse regalato una Mercedes ultima uscita e tu ci metti le galline dentro un po' di saggezza Dio ce l'ha data abbiamo letto nel verso 15 di primo Corinzi 10 15 io parlo a persone intelligenti dice Dio possibile che nelle cose spirituali perdiamo l'intelligenza io parlo a persone intelligenti giudicate voi quello che dico questo dice il Signore e se non siamo intelligenti ora mentre ascoltiamo la sua parola lo diventiamo lo dobbiamo essere non dobbiamo restare come i muri che dice il Signore non fate come il mulo come il bue eppure hanno delle regole che loro seguono l'asino che dice che è stupido io mi ricordo quando avevamo l'asino sapeva la via della casa sapeva dove era la manciatoia a volte eravamo stanchi la sera o la mattina quando uscivamo e ritornavamo perché eravamo stati fuori la notte sapeva la via non dovevamo guidarlo noi un asino e noi non riusciamo a comprendere la via ma possibile che siamo diventati peggio degli asini non siate come il mulo che bisogna mantenere con quel ferro che gli fa male per portarlo dove vuole il padrone ma questi sono è una terminologia che c'è tutta nella Bibbia che ci aiuta a comprendere noi dobbiamo mantenere pulito ciò che il Signore ha purificato San Paolo trova delle frasi appropriate per farci comprendere perché lo Spirito Santo lo guida in un linguaggio comprensibile proprio per aiutarci in secondo in secondo Timoteo 2.21 dice così guardiamo insieme se dunque uno si conserva puro da quelle cose saremo dei vasi nobili santificati utili al servizio del padrone ma chi è il padrone? il padrone è Dio il Signore preparati per ogni opera buona che bello e anche qui nel prossimo rigo ritorna la parola fuggi c'è un'altra cosa che dobbiamo fuggire noi credenti leggiamo il verso 22 fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia ricerca la fede ricerca l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro ma allora che dobbiamo fare? beh ce lo dice dobbiamo metterci con quelli che onorano il Signore nel modo che dice il Signore che dice il Signore come dobbiamo adorare lo dice Gesù in Giovanni 4 23 24 dice che noi dobbiamo adorare Dio in spirito e in verità l'ora è già venuta dopo la venuta di Cristo tutti i riti non servono più l'ora è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità poiché Dio vuole questi tipi di adoratori così ci vuole il Signore Dio e spirito vedi S maiuscola e quelli che lo adoriamo bisogna che lo adoriamo in spirito e verità cioè noi quando cominciamo a comprendere queste cose dobbiamo allontanarci dal virus del peccato dobbiamo correre quante volte abbiamo visto degli ospedali infettati avevamo qualcosa che dovevamo andare in ospedale non ci siamo andati perché lì molti andavano in ospedale e prendevano il virus come io sto fuori e non prendo il virus dove è preso il virus nell'ospedale noi andiamo nella chiesa per infettarci nell'ospedale quando erano infettati non entravamo invece nella chiesa che è infettata da queste cose ci entriamo ancora e continuiamo ma come dobbiamo fare rileggiamo questo verso che dobbiamo fare per mantenerci puli ci dobbiamo mettere con quelli che onorano il Signore come il Signore dice leggiamolo un'altra volta ma l'ora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità poiché il Padre ricerca tali adoratori in secondo Timoteo capitolo 2 verso 22 dice mettiti con quelli che di puro cuore cercano il Signore ecco qua questa è la chiesa del Signore leggiamolo aiutaci Signore ricerca ricerca la giustizia la fede l'amore la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro questa è la chiesa questa è la chiesa del Signore non il locale le persone non appena il Signore mi ha salvato uno mi disse una cosa tu stai seguendo questa chiesa e vuoi portare le persone nella chiesa dove sei tu per fare proselitismo ho detto guarda che io ho iniziato a seguire questa chiesa perché leggendo la parola del Signore questo mi dà l'impressione che sono più vicini a ciò che il Signore dice se domani mattina ho dei riscontri che questi non camminano come il Signore dice e c'è un altro gruppo che è più serio verso il Signore questo come si chiama chiama non mi interessa lo cambio perché io ho dato la mia vita al Signore non ho un gruppo di appartenenza noi quando ci consacriamo non ci consacriamo a Dio e non ci battezziamo nel nome di un gruppo come fanno i testimoni di Geova che battezzano le persone a nome della torre di guardia ma chi è la torre di guardia? quella è la torre di Babbele è la torre della confusione noi quando diamo il nostro cuore al Signore ci battezziamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo vogliamo che partecipi tutta la divinità nella nostra vita ed è Lui che ci dà i doni nello Spirito Santo come abbiamo letto nel capitolo 12 12 di primo Corinzi 12 4 partecipiamo insieme verso 5 per cortesia noi siamo uniti per diversità di ministeri ma non vi è che un medesimo Signore e il verso 6 dice vi è varietà di operazioni ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose e in tutti noi possiamo avere i doni dello Spirito Santo quando diamo la precedenza assoluta a Dio a Gesù Cristo e allo Spirito Santo che partecipano alla nostra consacrazione perché già da quando ci battezziamo ci battezziamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo che il suo dominio deve restare sopra di noi e dentro di noi noi siamo del Signore Signore aiutaci grazie fuggi leggiamo questo che dice da fuggire il verso 22 leggiamo secondo Timoteo 1 22 2 22 scusami dice fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia la fede l'amore la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro il primo corinzi 6 18 pure dice fuggi noi dobbiamo quando la parola del Signore dice fuggite quando c'è qualcosa che esplode che è un pericolo non ci dobbiamo dobbiamo stare attenti leggiamo primo corinzi 6 18 fuggi tutte queste cose che c'è primo corinzi 6 18 dice così ogni altro peccato che fuori ogni peccato che l'uomo che l'uomo commetta è fuori del corpo ma il fornicatore pecca contro il suo proprio corpo leggiamo un'altra volta dobbiamo fuggire la fornicazione naturale e spirituale ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo ci aiuta a comprendere dove dobbiamo restare dove dobbiamo staccarci in primo timoteo 6 11 anche qui dice che fuggi altre cose ma tu uomo di Dio fuggi queste cose e ricerca la giustizia la pietà la fede l'amore la costanza e la mansuetudine qui ci sono altre cose che bisogna fuggire leggiamole insieme nel verso 5 acerbe discussioni di persone corrotte di mente prive di verità li dobbiamo fuggire le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno fuggiamo 9 10 ci dice altre cose che dobbiamo fuggire non sono solo gli idoli noi cristiani noi credenti dobbiamo fuggire tutte queste infezioni invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni dobbiamo fuggire anche da quelli che pensano solo ai beni materiali di incanni e di molti desideri insensati e funesti che ci portano alla morte che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione fuggi da queste compagnie infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali dagli avari dobbiamo starne lontano perché prendiamo la stessa malattia e alcuni alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori quando cominci a camminare con quelli che sono avari diventi avaro pure tu perché vedi che quello tira e cominci a tirare pure tu quello l'avaro è insoddisfatto tu lo fai contento lui non è mai contento se ti cerca 100 lire tu gli dici sì lui subito capi alla scena e dici no ma 100 che vuoi fare me ne devi dare 150 l'avarizia è una malattia brutta fuggi da questi abbiamo letto in primo corinzi 10 14 cioè non ci dobbiamo accomodare in queste cose nel salmo 1 dice non si siede non si siede al banco dei peccatori non si non vuol dire che non ci sediamo fisicamente non ci accomodiamo per fare le stesse cose beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi che non si ferma nella via dei peccatori che non si siede in compagnia degli schernitori non vuol dire che se andiamo a un posto non ci sediamo vicino alle persone vuol dire che non ci accomodiamo per fare le stesse cose fuggi 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 è come se per esempio tu cammini con una macchina e vedi che chi guida è drogato e porta la macchina così dici scusa per piacere puoi fermarti un momento fuggi te ne vai a piedi ti salvi la vita perché dopo un poco senti che è successo un incidente sul telegiornale è proprio quello che sei sceso tu fuggiamo signore aiutaci questa mattina qui non parla solo di idoli visibili ma anche idoli domestici e quelli che abbiamo nel cuore che ci contaminano ci infettano ci mettono il virus del peccato che ci separano da Dio e dai nostri cari tutto ciò che idolatria sono incluse le opere della carne anche le opere della carne bisogna stare attenti non è che solo chi va davanti agli idoli pecca no nel verso 20 dice che anche le opere della carne sono idolatria leggiamolo leggiamolo perché noi il Signore ci deve aiutare a venirne fuori da queste situazioni perciò lui fa manutenzione questa mattina leggiamolo Galati 5 20 dice fuggite idolatria stregoneria inimicizia discordia gelosia ire contese divisioni sette questa è idolatria Gesù ci parla di queste cose che bello ci dà a intentimento in Matteo 15 verso 20 leggiamo cosa dice il Signore non vuole che ci contaminiamo queste sono le cose che contaminano l'uomo non è il mangiare con le mani sporche non è che non ti lavi le mani che succede ma il verso 18 il verso 19 ci aiutano a comprendere che cosa ci contamina ma ciò che esce dalla bocca che viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo nel verso 19 dice perché dal cuore vengono pensieri malvagi o omicidi tu prima che lo uccidi lo pensi adulteri prima che vai lo pensi la fornicazione prima che ci vai lo pensi furti prima che si muovono le mani già la mente ti ci ha portato fasse testimonianze diffamazioni la lingua che non riusciamo a domare e poi andiamo al signore e diciamo perdonami signore non lo dovevo dire al fratello chiediamo perdono al signore e non chiediamo perdono al fratello alla sorella che abbiamo offeso perché è più comodo ci dobbiamo umiliare per chiedere perdona alla sorella che l'abbiamo offesa e ma che mi vado a inchinare davanti a lei signore perdonami che ho offeso la sorella no devi dire alla sorella signore perdona sorella perdonami perché il signore dice nel padre nostro che noi siamo perdonati come abbiamo perdonato e come sappiamo chiedere perdono noi credenti stiamo diventando un poco così all'acqua di rose la parola del signore ci vuole aiutare fa manutenzione questa mattina la lingua chiediamo perdono alla persona non chiediamo perdono a chi abbiamo offeso che bello siamo proprio fuori luogo è come quello che mangia in un ristorante e paga nell'altro qualcuno ha detto io non mando l'offerta perché noi abbiamo la chiesa però non andava in chiesa durante tutto il periodo del 2019 20 21 e 22 e si nutriva da parole di vita grazie a Dio che è così sono felice però quando doveva fare l'offerta mi mandava il messaggio noi abbiamo la chiesa è come dire che vai a mangiare in un ristorante poi ti alzi non paghi e dici io c'ho il ristorante ciao che vuol dire questo vuol dire che dove mangi devi contribuire ti può far risparmiare qualcosa ma non puoi alzarti c'ho il ristorante ciao me ne vado i ristoratori così fanno no hanno il ristorante quando vanno a mangiare in un altro ristorante si alzano non pagano dicono al collega senti io ho il ristorante ma noi diventiamo ridicoli a volte la lingua se abbiamo offeso una persona dobbiamo chiedere perdono alla persona e quando offendiamo Dio dobbiamo chiedere perdono a Dio la lingua che va per i fatti suoi infatti Giacomo ci raccomanda anche per quello guardiamo guardiamo Giacomo 3-6 dice così aiutaci Signore questa mattina anche la lingua è un fuoco e la dobbiamo dobbiamo stare attenti il mondo dell'iniquità posta come fra le nostre membra contamina tutto il corpo e infiamma la genna è infiammata dalla genna viene dal nemico tutto questo da fuoco al ciclo della vita sembra un piccolo aggeggio non la vedi quando parla no è piccola così piccola che non la vedi là ma certe volte leggiamo il verso 5 che combina dobbiamo vigilare così è anche la lingua un piccolo membro eppure si vanda di grandi cose osservate osservate un piccolo fuoco può ingegniare una grande foresta le opere della carne abbiamo detto anche queste dice di fuggire è facile che lasciamo gli idoli quelli che abbiamo nella che adoravamo una volta in Egitto e adesso operiamo diversamente no leggiamo cosa dice il Signore Galati 5 19 dice fuggite anche queste cose leggiamo ora le opere della carne sono manifeste sono ornicazione fino al verso 20 leggiamo impurità dissolutezza idolatria stregoneria inimicizia discordia gelosia ire contese divisioni sette tutte queste cose ci sbarrano la strada per entrare ognuna ogni cosa di queste che stiamo leggendo è come una pietra d'intoppo una pietra d'inciampo sulla nostra strada è come una pietra un sasso d'intoppo noi dobbiamo vigilare dal novecento in poi sulle strade d'italia c'era una categoria che si chiamavano i cantonieri dell'anas che gli venivano dati dei tratti di strada che dovevano curare dovevano togliere le pietre dovevano ma erano così rigidi così rigidi per controllare la strada toglievano i sassi toglievano le pietre ma io mi ricordo che quando un asino sporcava lungo la strada si arrabbiavano quasi che i contadini dovevano comprare i pannolini agli asini si arrabbiavano avevano dei cappelli che sembravano sembravano quei soldati russi avevano dei cappelli fatti con una visiera sembrava una padella come quei generali russi sotto il comunismo questi cantonieri con questi barretti in testa non ti potevi muovere l'asino che sporcava che doveva fare quel poveraccio ma erano così trementi noi dobbiamo stare attenti noi dobbiamo togliere le pietre dalla nostra strada tutto quello che ci fa intoppare quello che ci fa dobbiamo toglierli perché se no certe volte diventiamo deboli e cadiamo c'era uno zio che aveva una ottantina d'anni come me mi diceva Cataldù mi chiamava col diminutivo diceva guarda certe volte la debolezza è brutta certe volte inciambo con i piedi penso che è un sasso e lo voglio togliere così non lo trovo la prossima volta faccio per vedere non c'è il sasso sai dove sono andato a inciampare vicino al tacco della scarpa e quasi cadevo perché la debolezza è brutta ci sono molti credenti che inciampano ogni giorno e non si fortificano nel Signore noi la strada la dobbiamo pulire questi tagliavano anche le spine che ripiegavano sulle strade molti credenti non tagliano le spine ci vanno sempre con la testa dentro e escono sempre graffiati signore aiutaci 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 queste cose che leggiamo li dobbiamo sgomberare dal nostro cammino noi dobbiamo togliere queste cose davanti a noi questi chiudevano i buchi tagliavano le spine che ripiegavano sulle strade gli veniva affidato un tratto di strada e loro stavano attenti ma attenti su tutto questo è un esempio per noi se ci sono degli intoppi sulla nostra strada li dobbiamo togliere se no ci cadiamo sempre controllavano i laterali se c'erano esposizioni di pubblicità una volta quando iniziai il mio lavoro feci un bellissimo cartello per indicare dove ero col mio negozio presi il salmo 42 verso 1 dove dice che come la cerva nella l'acqua così l'anima mia nella te feci fare una grande cerva con un fiume che passava scritto sotto salmo 42 verso 1 l'ho messo al lato della strada chiesi al proprietario del terreno se potevo mi disse sì arrivai una mattina come la cerva desidera i corsi di acqua così l'anima mia nella te o Dio feci era il marchio della mia della mia ditta e io l'avevo esposto sulla strada per dire che io sono un cristiano questa è un'idea che ti può essere utile era bellissima l'avevo fatta fare bene un grande cartellone con la cerva che beveva l'acqua fresca che scendeva con scritto sotto salmo 42 1 e poi ci ho messo CP era il nome della società ma quello era il marchio con tanta gioia l'avevo messo per testimoniare del signore sono arrivato una mattina l'avevano tagliato ho detto ma che hanno fatto questi erano così terribili che sorvegliavano sulla strada così dobbiamo fare noi adesso abbiamo un grande cartellone vicino all'autostrada che c'è scritto canale 245 un giorno sono venuti mi ha detto li dovete togliere ho detto cosa devo togliere no perché si vede dall'autostrada ho detto ma quello si vede pure parole di vita dall'autostrada che devo togliere io sto qui mi devi dire a quanti metri la devo mettere distante no non c'entra metri lo devi togliere e basta ho detto ma tu che dici loro vigilano sorella questo è un segno che noi dobbiamo vigilare sulla nostra strada quando vediamo queste cose che leggiamo che creano infezione spirituale dobbiamo vigilare quando gli veniva affidato un tratto di strada la strada che noi abbiamo intrapreso è la strada della santificazione dobbiamo scomperare tutte quelle cose che non ci permettono di essere sul sentiero giusto perché noi abbiamo intrapreso il cammino per il cielo con il capo supremo noi non abbiamo il capo cantoniere che avevano anche la casa cantoniera erano delle case rosse che facevano lungo i percorsi delle strade noi abbiamo il grande capo alleluia gloria al signore in Efessini 1 22 dice che lui è il capo generale cucca massinda ogni cosa gli è stata sottoposta ed egli lo ha dato per capo supremo della chiesa noi siamo i credenti una metafora del popolo redento di Dio vigiliamo sul nostro cammino come vediamo qualcosa che il signore dice che non va bene escludiamola dalla nostra vita nel verso 23 dice che la chiesa noi io te non il locale di culto io che il corpo di lui noi siamo il corpo di Cristo il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in ognuno di noi alleluia gloria al signore gloria al signore manteniamo pulita la strada come vediamo qualcosa che ci permette di inciampare cose togliamola di mezzo cattive compagnie idolatria tutto quello che man mano leggiamo nella parola del signore dobbiamo scomperarlo se no ce lo troviamo davanti ai piedi e cadiamo il signore anche stamattina ha fatto prevenzione ora aspetta a noi essere dei bravi cantonieri per mantenere in ordine la strada dove camminiamo tutte quelle cose che troviamo c'è una prostituta la togliamo desiderio della prostituzione spirituale e materiale questo mi fa questo mi fa cadere questo mi fa cadere questo mi fa cadere e manteniamo il cammino con il capo cantoniere capo supremo che per lo spirito santo ci dice cosa deve restare cosa non deve restare e lo seguiamo come piace a lui ringraziamo il signore che pure oggi ci ha parlato signore ti ringraziamo per la prevenzione che fai per la nostra vita presente e futura grazie e a te padre Dio Onnipotente Gesù nostro Signore Salvatore nostro Dio nostro Salvatore a te Spirito Santo nostra guida e consolatore diamo lode onore gloria ora e sempre il figlio nell'eternità ti diamo tutto l'onore serviti di noi Signore Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org www.paroledivita.org www.paroledivita.org